Grazie a tutti. Qualcuno di voi avrà sentito che per le pubbliche amministrazioni da qualche tempo il fax non vale più, stiamo facendo delle verifiche per capire se questa cosa è effettivamente così o no. Noi ci siamo portati avanti già da agosto e abbiamo detto che questa richiesta deve arrivare attraverso posta elettronica certificata da un'autorità di protezione civile, quindi dal comune, che la manda alla provincia. Il passaggio comune provincia non è obbligatorio che sia attraverso posta elettronica certificata, ma dalla provincia sicuramente sì. Quindi è un passaggio che richiede anche, che in qualche modo viene molto sveltito facendo ricorso a questo strumento, perché non ha necessità di spedizioni ed ha una certezza di arrivo quasi immediata, perché è una mail che io mando e mi arriva in modo quasi istantaneo. Chiaramente abbiamo dovuto tener conto di alcuni aspetti organizzativi, perché nei fini settimana non è detto che ci sia disponibilità di accesso a questi strumenti, e quindi abbiamo detto che se capita nel fine settimana è il primo giorno possibile successivo o durante un giorno di festa, però l'importante è che la sala operativa regionale attraverso le province sia a conoscenza dell'attivazione, della necessità, della concessione di questi benefici di legge. Il motivo è duplice, il primo per sapere quello che sta succedendo, il secondo è per verificare che ci si possa essere la copertura dal punto di vista economico. Questa copertura, insomma la regione si impegna a garantirla sempre, però può darsi che in alcuni frangenti dell'anno possa essere abbastanza limitata, quindi l'importante è che questa comunicazione sia tempestiva. Le attivazioni riguardano, la direttiva del 9-11-2012 introduce a fianco alle emergenze di livello locale per le quali non cambia niente, cambia solamente il destinatario della richiesta che non è più Roma ma è Milano attraverso la provincia. Introduce però due oggetti che fino ad oggi esistevano in un sottobosco, in una zona grigia delle attività di protezione civile, attività che venivano svolte ma che non si capiva bene se era un'attività di protezione civile, non era un'attività di protezione civile, come ci si doveva comportare nei confronti di questo tipo di interventi. E mi riferisco agli eventi che sono stati così codificati dal Dipartimento Nazionale, eventi di rilevante impatto locale, cioè tutto quello che viene fatto dal volontariato di protezione civile a livello locale che non è a gestione dell'emergenza. Lascio a voi, non faccio il solito esempio che mi viene molto bene ma è della sagra, mi riferisco a questo, piuttosto che a manifestazione sportiva. Il Dipartimento in questo modo, è una scelta di livello nazionale, dello Stato, che dice che questo tipo di attività che fino ad oggi, non nascondiamoci, lo venivano fatte, ma venivano fatte in un modo non corretto perché teoricamente non potevano essere svolte dai volontari di protezione civile, ma dall'altro lato danno importanza al volontariato di protezione civile perché gli consentono di farsi vedere sul territorio, di in qualche modo partecipare alla vita sociale del territorio dimostrando che c'è qualcuno che fa anche volontariato di protezione civile e che quindi quando c'è un'emergenza interviene ma può farlo anche in altre situazioni. Allora, questi eventi di rilevante impatto locale che sono stati così codificati hanno delle condizioni minime e essenziali, mancanti, le quali non potrebbero essere svolti. E quali sono queste condizioni? E qui mi ricollego l'intervento di Nadia Padovana e al mio inizio di intervento. L'esistenza di un piano di emergenza comunale. Non solo di un piano di emergenza comunale, ma di un piano di emergenza comunale che abbia all'interno dei propri scenari la descrizione di quello in cui si chiede ai volontari di operare. Questo per quale motivo? Perché per chi conosce i piani di emergenza, nel piano di emergenza c'è una descrizione di quello che succede e c'è una descrizione del ruolo, della catena di comando, delle attività che vengono svolte da tutti quelli che partecipano alla gestione dell'emergenza. Qui non si tratta di un'emergenza, si tratta di un altro tipo di evento, ma la sostanza non cambia. Quindi nel piano di emergenza ci deve essere la descrizione di quell'evento che può essere di due tipi, può essere un evento ricorrente. Io faccio sempre l'esempio del Carroccio a Legnano perché mi viene comodo territorialmente. Il Carroccio a Legnano c'è tutti gli anni. Quindi il comune di Legnano dovrebbe nel suo piano di emergenza prevedere lo scenario Carroccio nel quale descrive che cosa succede, tutti quanti lo sanno ma una descrizione minimale di quello che succede e dire in questa situazione io comune dichiaro che quello è un evento di rilevante impatto per la mia comunità e quindi attraverso questa dichiarazione prevedo l'impiego del volontariato di protezione civile a cui faccio fare questo, questo, questo e questo al di sotto del coordinamento di qualcuno che è titolato a quell'attività. Quindi discorso storico della viabilità. I volontari possono fare o non fare viabilità? Diciamo che fanno assistenza lungo le strade alla popolazione sotto il coordinamento di chi? Della polizia locale, della polizia stradale, dei carabinieri, di chi è tenuto al controllo della viabilità. Non usano la paletta, chi viene beccato con la paletta in mano viene applicata la sharia e gli viene mozzato il braccio immediatamente, no, non sto scherzando, ha delle conseguenze anche penali l'utilizzo della paletta. Quindi è una esortazione che vi faccio, non si usa la paletta, neanche se ve la dà in mano l'agente di polizia locale. Questo è fuori discussione. Così come non posso fermare le macchine, ma posso svolgere tutta una serie di attività di aiuto, di supporto alla fluidità del traffico, l'importante è che ci sia la presenza di qualcuno che coordina la mia attività e che questo sia scritto ed è scritto con precisione nel piano d'emergenza comunale. Altrimenti io mi rifiuto di farlo. Ho detto mi rifiuto di farlo, volutamente, perché il comune può continuare tranquillamente a chiedermelo. Qua ci spostiamo sull'altro lato, chiedere lecito, domandare lecito, rispondere cortesia, rifiutarsi a un dovere nel momento in cui non ci sono le garanzie previste dalla legge. L'ultimo punto, lo lascio un pochino in sospeso perché in realtà è un'ipotesi, un'eventualità che è stata introdotta per quelle grosse manifestazioni di carattere sportivo, l'esempio classico è il Giro d'Italia, dove viene chiesto un impegno a volte anche molto gravoso al volontariato di protezione civile. Allora, lì si dice, cara società che organizzi l'evento e che quindi fai un lucro su quell'evento, partecipa un pochino alle spese, anziché utilizzare la security privata, io ti concedo l'utilizzo del volontariato di protezione civile con i compiti descritti nel piano d'emergenza comunale, e tu partecipi alle spese. E' uno sponsor, diciamo, una specie di sponsorizzazione, chiamiamola così. Allora, l'altro oggetto che è stato introdotto e in qualche modo sancito è la ricerca di dispersi, che in alcuni periodi dell'anno è diventato ormai, devo dire, il core business della protezione civile. Tra i mesi di agosto, da quando abbiamo introdotto questo nuovo sistema, e il mese di gennaio, è l'evento per il quale con più frequenza si è stato chiesto l'impiego dei volontari di protezione civile. La legge 203 del 2012 è precisa in questo senso perché spiega bene bene di chi sono le competenze sulla ricerca dei dispersi, così come la 74-2001 per le ricerche in ambiente impervio. Queste sono delle prescrizioni di legge, quindi il volontariato di protezione civile non fa altro che dare un supporto a chi è competente secondo queste leggi. La direttiva lo ribadisce e dice, attenzione, ci sono delle situazioni in cui è già chiaro a chi tocca fare la ricerca dispersi, in prima battuta, se questi da soli non ce la fanno e chiedono un supporto specifico motivato del volontariato di protezione civile, non mi mandi 100 volontari così perché mi servono per fare la ricerca dispersi, ma ti chiedo i volontari in numero adeguato per fare queste attività. Con il coordinamento di un'autorità presente sul posto, di una di quelle previste dalla 203, dalla 74 e dalla direttiva, che sta lì, comanda l'azione del volontariato, la organizza, dice ai volontari cosa devono fare, dove devono andare, cosa devono cercare, ne rileva la presenza, nome e cognome sul campo e trasmette quella presenza alla provincia, attraverso la quale deve chiederne l'inattivazione. Quindi comunque l'autorità deve passare dalla provincia per chiedere l'impiego del volontariato. Che sia la prefettura, che siano i carabinieri, che siano i vigili del fuoco, che sia il 118, che sia il soccorso alpino, chiunque è titolato alla ricerca dispersi, se vuole attivare i volontari di protezione civile, deve passare dalla provincia. È la provincia che gli manda i volontari. Poi che questa attivazione possa essere fatta telefonicamente per accelerare la tempistica, anche se teoricamente il disperso, secondo quanto previsto la legge, incomincia a cercarlo dopo 48 ore. Trattandosi di un vecchietto con l'Alzheimer, magari le 48 ore non si fanno passare, o se è un bambino. Però l'attivazione deve seguire un processo che sia anche di garanzia nei confronti del volontariato di protezione civile. Cioè questa cosa non è stata messa in piedi per dare un ruolo ai burocrati della pubblica amministrazione, ma è fatto per dare una garanzia al volontariato di protezione civile che poi non possa essere accusato, come è capitato in passato, di aver sbagliato nella ricerca del disperso. Quindi questo deve essere chiaro. Chiudo su questo argomento. Riassumo, la direttiva prevede delle competenze che sono sui livelli istituzionali coinvolti precise. Il comune coordina il volontariato a livello locale, la provincia lo coordina a livello provinciale e gestisce le richieste di attivazione dei benefici di legge che terminano alla Regione. La Regione concede i benefici di legge per gli eventi locali e regionali ed eventualmente chiede al Dipartimento che questi siano coperti se l'emergenza diventa molto grossa. Questa è la scala gerarchica delle attivazioni prevista dalla direttiva del novembre 2012. Spero di essere stato chiaro. Cambio discorso. Decreto 81. Come tutti voi immagino sappiate, il 25 novembre il Capo del Dipartimento ha emanato un decreto che va a modificare, rettificare, completamente cambiare quello che era previsto nell'allegato 3 del decreto suo stesso del 12 gennaio 2012. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio 2014, quindi è una cosa di ieri. ha ridefinito questo decreto gli adempimenti relativi al controllo sanitario per i volontari di protezione civile. Chi di voi conosce il decreto, la versione precedente dell'allegato 3, sa di cosa stiamo parlando, quindi cose abbastanza pesanti che avevano delle tempistiche e anche dei risvolti di costo sia sulle organizzazioni che sulle istituzioni abbastanza rilevanti. Qui io vado molto veloce, vi faccio notare solamente le parti scritte in grassetto. Il controllo sanitario viene ora ricondotto ad un sistema di misure generali di prevenzione, educazione e promozione alla salute, quindi non c'è più la richiesta di una visita medica specifica che non esisteva, questo era il motivo fondamentale per cui il decreto 81, l'allegato 3, non era applicabile. Questo sistema di misure generali non è detto che sia specifico per il volontariato di protezione civile, ma può essere integrato nella vita quotidiana del cittadino trattino volontario. Quindi viene ricondotto all'attività del sistema sanitario nazionale, ragione per cui quel piano, quindi questo controllo sanitario con campagne di informazione e prevenzione che viene rimandato ad un controllo di una programmazione di livello quinquennale che sta in capo alle direzioni di protezione civile delle regioni e alle strutture di coordinamento nazionale per le grosse organizzazioni che hanno un coordinamento nazionale, mi riferisco all'ANA, a Ampasare, tutte queste cose grosse, non esiste ancora. È un discorso che nasce, è partito il 31 gennaio di quest'anno e deve essere costruito e che noi inizieremo a costruire a breve con i colleghi della direzione sanità per capire come nell'ambito delle campagne di previsione e prevenzione medica sul territorio possano essere magari individuati dei momenti dedicati ai volontari di protezione civile oppure per cui i volontari di protezione civile possono essere agevolati nella adesione a queste campagne di controllo sulla glicemia, l'ictus, insomma tutte le campagne sanitarie che sono normalmente messe in piedi dal sistema sanitario nazionale. Quindi è molto ridotta l'impatto dal punto di vista del controllo sanitario sul volontariato. rimangono quelle prescrizioni rigide su chi sfora i periodi quindi lo svolgimento di attività a rischio per un certo periodo di tempo ma è una situazione praticamente realizzabile perché sono periodi di tempo che vanno al di là dell'impiego annuale consentito per i volontari di protezione civile quindi è uno che quasi lo fa di lavoro questa attività. E rimangono le prescrizioni per chi fa IB che invece sono prescrizioni sancite dal piano regionale di prevenzione adesso vado avanti poi torno indietro sono regolate dal piano regionale dell'attività di previsione e prevenzione della lotta agli incendi boschivi tra l'altro recentemente approvato e aggiornato in regione Lombardia quindi per i volontari IB c'è una cosa a parte un percorso di controllo sanitario già previsto. Torno un attimo a cosa aspetta ai responsabili delle organizzazioni i responsabili delle organizzazioni hanno il compito di quando ci saranno queste campagne che ad oggi non esistono di registrare la partecipazione di tutti i volontari a queste campagne. questo sarà uno dei requisiti che verrà chiesto per il mantenimento dell'idoneità tecnico-operativa cioè con le attestazioni che tutti i volontari hanno aderito a queste campagne di controllo sanitario. il mancato adempimento comporta la sospensione dell'attività operativa quindi questo è quando saranno messe a regime queste campagne di controllo sanitario diventeranno importanti anche per questi altri aspetti amministrativi il discorso quindi mi aggancio all'ultimo aspetto il discorso della verifica annuale del mantenimento dei requisiti e qui immagino che poi ci sarà sto evocando un un nightmare poltergeist volo asso allora come tutti voi sapete immagino se non sapete siete vittime tanto quanto noi del sistema volo asso per le associazioni di volontariato di protezione civile e anche per i gruppi c'è una procedura annuale che prevede entro il 30 giugno la conferma dei requisiti del possesso dei requisiti per essere titolati all'iscrizione all'albo regionale volontariato di protezione civile questa verifica avviene attraverso due sistemi informativi il sistema volo asso che è più orientato alla parte amministrativa e il sistema di bivol che invece segue più gli aspetti di carattere operativo e tecnico anticipazione questa è una novità la chicca del giorno il 4 di aprile volo asso riapre quindi a differenza dell'anno scorso quando il sistema è stato aperto un solo mese e ha generato una serie di criticità notevoli quest'anno abbiamo anticipato l'apertura quindi il 4 di aprile e io vi esorto fatelo subito non aspettate la scadenza del 30 di giugno entrate subito in volo asso e se siete in grado di farlo procedete col mantenimento dei requisiti perché questo ci serve per evidenziare eventuali magagne informatiche che nel corso di questi mesi non si è riusciti a risolvere completamente sappiamo benissimo quali sono le problematiche che ha generato questo sistema nello scorso anno purtroppo dal punto di vista tecnico e informatico non è stato possibile sostituire il sistema anche dal punto di vista economico non è stato possibile sostituire il sistema per quest'anno quindi ancora per il 2014 ci dobbiamo confrontare con volo asso a differenza una noticina a margine a differenza del 2013 CSV quest'anno non saranno disponibili come lo scorso anno a dare un supporto se non a pagamento perché l'anno scorso avevano una convenzione quindi non li pagavano le organizzioni volontariate li pagava la regione i CSV la convenzione quest'anno è scaduta quindi chi si rivolge al CSV sappia che lo fa a pagamento quindi date ampia diffusione di questa notizia anche alle organizzazioni di volontariato che non sono presenti in sala 4 di aprile il sistema si apre dal primo di aprile troverete anche sulla home page del sistema l'informazione che vi ho dato quest'oggi per i gruppi per i gruppi dall'anno scorso esiste una procedura di mantenimento di verifica tecnico-amministrativa che è analoga a quello che le associazioni sono tenute a fare per la legge 266 per la legge 1 2008 e così via c'è questo decreto del 30 maggio 2013 che ha approvato una modulistica che deve essere utilizzata compilata e trasmessa alle province per la verifica annuale del mantenimento dei requisiti tecnico-operativi per i gruppi comunali la scadenza è sempre la stessa 30 giugno quando probabilmente riusciremo a sistemare gli aspetti informatici di Voloasso anche la modulistica per i gruppi comunali che al momento è in formato cartaceo verrà migrata sul sistema informatico attraverso non più Voloasso ma attraverso il database del volontariato quindi il DBVol conterrà un piccolo moduletto che consentirà di compilare online la modulistica per il mantenimento dei requisiti dei gruppi comunali mentre le associazioni fino a controordine continueranno ad utilizzare Voloasso purtroppo non siamo riusciti a far parlare insieme i due sistemi per i dati che condividono ci abbiamo provato io vi giuro che ci abbiamo provato tante volte Nadia Padovan può testimoniare gli sfoghi che ogni tanto io ho nel suo ufficio su Voloasso e stiamo cercando di capire se per il 2015 questo colloquio tra i due sistemi sarà possibile quindi perlomeno si eviterà di dover compilare i dati due volte vi ricordo che proprio per questo motivo chi va a modificare i dati in Voloasso poi lo deve fare anche nel DBVol perché altrimenti i dati non sono allineati quindi prima sistemate Voloasso e poi gli stessi dati che avete eventualmente modificato in Voloasso li andate a modificare nel DBVol proprio per evitare che poi ci siano dei disallineamenti noi quando faremo l'istruttore quindi al 30 di giugno durante il mese di luglio faremo le verifiche le province andranno a fare questa verifica confronteranno i dati comuni e vedranno se ci sono delle discrepanze però se voi già fate questa cortesia in partenza di allineamento dei dati ci accelerate le pratiche di istruttoria chiudo con una minaccia il mancato rispetto della verifica dei requisiti sia su Voloasso che sul DBVol è passibile della cancellazione dall'albo regionale so che alcune province in questi giorni hanno provveduto alla cancellazione di alcuni gruppi e associazioni che non hanno provveduto a questa poi chiaramente hanno fatto il loro istruttore il contraddittore quindi ci sono delle motivazioni diciamo più gravi probabilmente alle spalle è una minaccia tra virgolette è un'esortazione ricordatevi che questa è una previsione per le associazioni non nostra una previsione di legge per i gruppi comunali lo è diventata da quando sono stati allineati giustamente alle associazioni con cui condividono la partecipazione del sistema che